Iniziamo col bosco, il bosco è uno degli elementi dominanti delle valli del Natisone, se facciamo un giro anche adesso in questo istante nelle valli quello che ci salta all'occhio è proprio vedere il verde del bosco che c'è nelle valli. Da fare una premessa su questo verde che c'è nelle valli che adesso è bosco, dicendo che questo verde che adesso rappresenta lo stato arboreo delle valli una volta non era bosco ma era prato, proprio perché c'è stata un'evoluzione nelle valli, avvenuta soprattutto dopo la prima guerra mondiale, soprattutto ancora più evidentemente nella seconda, dove la gente del luogo ha abbandonato lo sfalcio dei prati e quindi a quel momento in poi il bosco si è ripreso il territorio e ha cominciato ad avanzare nelle valli fino a dare quella copertura che adesso è evidente, evidentemente presente. Se diamo così per dare un'idea generale dei tipi di boschi che possiamo trovare nelle valli, quello che salta ad occhio a qualsiasi persona ci vada per la prima volta è la presenza, come si vede anche nell'immagine, proprio del castagno. Il castagno è una delle essenze dominanti, che caratterizza più del 90% del territorio delle valli del Natisone, proprio perché il castagno predilige un tipo di substrato che è acido, che è quello che caratterizza maggiormente appunto le valli. L'altro tipo di bosco si può trovare riguarda la zona del Monte Mia e del Monte Matajur, che essendo di natura calcarea presenta tutta una differente tipologia di specie. Nelle immagini vediamo anche altre tipologie di alberi. Diciamo che tutti i boschi delle valli del Natisone, proprio per questo abbandono dello sfalcio, sono dei boschi tutti molto recenti. E quindi sono dei boschi misti, dove si trova, come vediamo nell'immagine, il nocciolo, si trovano il frassino, si trovano il carpino nero, il carpino bianco, quindi una serie di essenze particolari. Diciamo che il tipo di bosco più rappresentativo, che è anche a livello botanico e studiato, è quello, ad esempio, degli aceri frassinetti, che sono i boschi proprio caratteristici di quel rio che abbiamo visto prima, nel rio Bodrino. E questo è un tipo di bosco che addirittura è tutelato anche a livello europeo, perché è uno di quei boschi che sta scomparendo, proprio perché stanno scomparendo questi tipi di ambienti, proprio perché ci sono questi cambiamenti climatici che stanno caratterizzando tutta l'Europa e quindi anche nelle valli c'è questo surriscaldamento del clima che porta a scomparire determinate specie. Quindi nelle valli diciamo che comunque gli alberi dominanti sono i castagni. Una cosa molto particolare che si può trovare nelle valli è trovare anche degli alberi secolari. Caratteristici sono ad esempio i castagni secolari, come uno che c'è presente a Pegliano. Questi castagni hanno anche più di 100, 200, anche 300 anni. E cosa succedeva? Perché questi alberi sono più vecchi rispetto agli altri? Perché una volta appunto il castagno era l'assenza fondamentale della vita del locale e quindi si innestavano i castagni nelle posizioni più caratteristiche, più soleggiate. Infatti i più grandi castagni si trovano sempre in zone molto centrali. Ovviamente questi castagni che prima erano in mezzo a un prato, adesso si trovano in mezzo a un bosco. Però l'essenza era proprio tenere un castagno nel migliore delle sue posizioni, proprio perché poi bisogna prenderne i frutti e sfruttare questa caratteristica per poter poi sopravvivere. Montefosca è un bel borgo montano, sempre in comune di Pulfero, a 725 sul livello del mare. Il nome Montefosca deriva dalla traduzione del locale Cernivarch, Cernivarch, che vuol dire cima nera. Vi si accede da Pulfero con 13 km di strada, fino al 59 però esistevano solo sentieri e mulattiere o i materiali venivano trasportati con una teleferica. Montefosca è divisa in due borghi, Paceida e Montefosca, e la costituzione dei fabbricati è un promiscuo di case e stalle, con la tipologia classica delle valli casa in pietra con balconi in legno. Gli abitanti di Montefosca, i primi documenti di Montefosca risalgono al 1372, però gli abitanti sicuramente sono un popolo, una popolazione che ha colonizzato le valli del Natisone, una porzione slava, che già nel VII secolo è arrivata nelle valli del Natisone. Montefosca ha anche una peculiarità nella sua costituzione dei fabbricati, non avendo nei secoli scorsi un'acqua vicino, avevano una ventina di pozzi di acqua piovana. Per quanto riguarda l'escursionista, Montefosca offre una serie di sentieri abbastanza agevoli nei dintorni, verso Sant'Andrea, Stupizza, il Monte Vogu e il Monte Ioannatz, e c'è il sentiero Italia per arrivare a Montemaggiore di Taipana. Gli abitanti di Montefosca fino al 1950 erano tantissimi, si pensi 500 persone in un ambito così piccolo, purtroppo con l'immigrazione verso l'estero e verso le industrie friulane sono rimasti forse una cinquantina di persone.